Ogni idea ha bisogno di chi la sappia trasformare in modo concreto. Quisirai le tecniche che ti permetteranno di realizzare un modello direttamente a manichino. Potrai affinare la tua manualità attraverso l'uso degli strumenti essenziali per la realizzazione tecnica dei capi. Modellerai sulle tue capacità una figura fondamentale per le aziende del settore moda. La, 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 la... Sapere interpretare foto e disegni, convertendoli in creazioni tangibili, prevede un livello di comprensione del mood e dello stile che grazie a questo corso imparerà a trasformare in soluzioni reali, capaci di adattarsi alle esigenze del brand.